Ma dai, beh credo che per te sia stato attenzione, attenzione, attenzione Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passo dal basement, nuove storie che stiamo evidentemente per raccontare Sono molto contento insomma di come stanno andando queste chiacchierate Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella Che è una cosa che ho scoperto da poco e che funziona molto, soprattutto per non perdervi le varie chiacchierate che stiamo facendo qui al basement Oggi c'è una chiacchierata, una di quelle forse inaspettate, che quando ho iniziato questo fantastico viaggio Magari nella mia ambizione c'era anche quella di avere degli ospiti e degli amici come in questo caso Ma qua stiamo andando veramente in un territorio per me molto 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 affascinante E sono davvero contento che oggi al basement è passato Alessandro Benetton Ciao, ciao, grazie di avermi invitato Anche per me è un incontro inaspettato Perché mi sarei aspettato tante cose della mia vita esclusa questa nuova fase Beh, una nuova fase della tua vita in generale probabilmente Assolutamente, è una fase inaspettata Come dicevo, in cui c'è proprio un incrocio di forze diverse rispetto a quelle per le quali pensavo di aver lavorato tutta la mia vita Per cui simultaneamente è successo che ho sviluppato un rapporto con il mondo dei social molto intenso Che mi sta divertendo e mi sta insegnando tantissimo Ma aiuta a fare tante cose, inclusa quella di avere un rapporto ancora più vicino e intenso con i miei figli E poi insomma anche dei ruoli dal punto di vista professionali che sembravano non essere il mio vero obiettivo nella vita Beh, questa è una figata ed è per questo che sono davvero contento che tu sia passato Perché appunto venendo qui veramente amici da mondi diversi Solitamente per ora sono tutti amici che in qualche modo arrivano magari dallo spettacolo, dallo sport Non era ancora capitato di chiacchierare magari con qualcuno che avesse un percorso tipo il tuo Che però ha portato in realtà fino a questo E secondo me può essere poi di grande ispirazione anche per tante altre figure La cosa che più mi ha colpito poi seguendoti letteralmente Perché adesso sui social hai un vero e proprio storytelling anche di quello che stai facendo È proprio questa voglia di mettersi in gioco di nuovo È una cosa di questo genere, ho percepito una voglia di rimettersi in gioco su cose nuove Ma questo secondo me lo racconto un po' nel mio libro Questa nuova veste che mi sono dato appunto anche questa più che inaspettata In cui sostanzialmente sì, la mia vita ha voluto essere un basement Ecco rimanendo in tema, no? Cioè un basement in termini di pur con un eventuale e chiarissima appunto di partenza Molto privilegiato mi piaceva contaminare la mia vita di cose diverse Per cui per me appunto la passione per lo sport Ma anche la curiosità, i viaggi, gli Stati Uniti, l'università, l'economia Il mondo degli affari intesi come piccole imprese Come il mondo del fare, del costruire, dei rapporti sociali È stato qualche cosa che un percorso Ecco, forse oggi trovo la sintesi Anche perché è più contemporaneo e moderno parlare di queste cose di contaminazione Trovo la sintesi di quella che è la mia vera attitudine Cioè quella di andare a scoprire delle cose facendone altre Ok, questa è come dicevamo una cosa molto bella Tra l'altro cosa nuova l'hai citata anche tu Ed è poi lo spunto che mi ha fatto dire Va proviamo a scrivergli, vediamo se voglio Abbiamo degli amici in comune Se passa di qui è il libro, no? È il libro nuovo, la traiettoria Tu dicevi appunto qualcosa in cui lì ti sei messo in gioco Com'è stato scrivere della tua vita, scrivere queste cose, metterle per iscritto Anche se so che in realtà partiva già da qualcosa che tu facevi, cioè scrivere Sì, diciamo che parte da una fase particolare della mia vita Ho festeggiato il mio compleanno due volte Ai 18 anni, perché sentivo che a quel punto dovevo uscire Un'età importante Un'età ufficiale in cui insomma diventavo grande E poi in realtà sai, tutta la mia vita, proprio perché cercavo queste contaminazioni Cercavo l'arredamento di un basement per me E lo volevo fare assolutamente in maniera indipendente Ma mi ero sempre orientato a guardare al futuro Cioè io mi sono reso conto quando sono arrivato a 50 anni Che io non avevo mai voluto guardare indietro in realtà I 50 anni sono stato un turning point perché avevo Ha appena deciso di interrompere questo brevissimo periodo Di relazione professionale con la mia famiglia Cioè io in realtà avevo costruito una mia carriera indipendentemente Tutta la mia vita, mi avevano chiamato E dopo un brevissimo periodo non ci eravamo trovati E quindi insomma avevo abbandonato il colpo In quel contesto là, con più di 50 anni Volevo fare una festa, volevo richiamare tutti i miei amici del liceo Delle medie, delle elementari, quindi mi sono messo a scartabellare Ma che tu non sentivi più da tempo? Alcuni non li sentivo, quelli del liceo invece sono rimasti i miei amici Lo sono tuttora E alcuni non li sentivo da tempo Per cui insomma ho incominciato a cercare le carte Tra cui sono venuti fuori dei temi che avevo scritto da piccolo E nell'ambito di questo ho detto ma a me piaceva scrivere Allora c'è questa grandissima scrittrice francese Che diceva che scrivere è un atto per non dimenticare E ho incominciato questo diario Un diario che poi l'ho messo là perché non doveva assolutamente essere pubblicato Ok, quindi tu hai detto questa cosa resterà sicuramente per me e basta Invece eccoci qui con la traiettoria, con il libro E quindi la domanda è cosa è successo che ti ha fatto cambiare idea? C'è qualcosa che evidentemente ha fatto switchare questo pensiero Gli amici che abbiamo in comune Sì No, sì, ti spiego questa storia Praticamente a un certo punto io appunto facendo un'attività separata dal resto della mia famiglia Mi trovo costretto a rendere molto più pubblico questo fatto Cioè il fatto che io mi occupo di una cosa indipendente Praticamente dovevo far sapere che il mio era un mestiere Che non aveva niente a che fare con gli affari di famiglia E quindi incomincio questo percorso con i social Che mi porta Quanto tempo fa stiamo parlando? 2018 più o meno E in quel periodo praticamente incomincio a conoscere questo mondo Che forse è un mondo che sento più mio di quello tra virgolette precedente Non perché mi è sempre piaciuto tantissimo di quello che ho fatto E lo racconto nei dettagli nel libro E insomma uno di questi amici in comune a un certo punto ha trovato questo manoscritto L'ha letto e ho detto ma guarda che questa è una storia È una figata È una storia anche per altri E ho detto ma sei sicuro? Poi insomma come sempre si ha una paura folle Perché è la prima volta Io di sicuro non sono uno scrittore Devi mettere in piazza la tua vita, le tue cose Perché poi se fai una cosa io penso sempre che la devi fare Con onestà, trasparenza, è vera Certo Però insomma diciamo Mi hanno convinto che ne valeva la pena E ti devo dire per quello che comincio a vedere adesso Ne valeva la pena Questo è molto bello anche perché appunto Come dire Ti butti tra virgolette in un mondo nuovo Ma che forse nuovo non è Perché comunque si sposa già con il tuo modo di vedere la vita Quello che avevi già fatto prima Che feedback stai ricevendo? Anzi no, innanzitutto Chi è secondo te il lettore che sta leggendo questa storia? Ma guarda È un lettore voglio dire abbastanza eterogeneo Nel senso che abbiamo più o meno di tutto Perché è un libro alla fine in cui raccontato una storia molto personale Che volutamente ho pensato che dovesse essere generosa Dove per generosa non c'erano solo i dettagli, gli episodi, il nome delle persone Ma c'erano anche come mi sentivo in quel momento Vedi adesso che sto frequentando i giovani Mi rendo conto che tante volte Diciamo la forza più importante che ciascuno di noi deve combattere È quella di non cadere nella trappola Di mettersi in una zona di comfort da cui non uscire più E c'è questa doppia forza Da una parte che ci vogliamo andare Perché ciascuno di noi vuole la tranquillità Vuole la zona dove ci sentiamo a nostro agio Ma quando ci arriviamo in qualche maniera non siamo contenti Il feedback che ho ricevuto è stato E questa è la cosa che mi fa più piacere Soprattutto i giovani Che proprio per questa trasparenza In cui ho raccontato anche i momenti di paura Di insicurezza Ho raccontato soprattutto i fallimenti Le cose che non sono funzionate Proprio perché alla fine troppo volte I grandi si dimenticano di come si sentivano Questo è forte Una cosa a cui io tengo sempre molto a raccontare A far saltare fuori È sempre un po' la metafora quella dell'iceberg Tutti vedono quello che ci sta sopra La punta Ma poi il pezzo grosso Quello sotto sono i fallimenti Sono gli errori La fatica Il sacrificio Eccetera Nel tuo caso Io immagino sempre che poi Insomma la punta dell'iceberg Sia come ti vedono gli altri Quindi anche il tuo stesso cognome Che è un cognome molto importante Per il nostro paese Ma molti magari Non riescono a immaginare Che cosa voglia dire Crescere anche con un nome così importante So che nel libro racconti anche questo aspetto Ed è un aspetto secondo me In cui molti ci si possono ritrovare Anche per altri aspetti Però a me è sempre incuriosito Questa cosa Avendo avuto un percorso sicuramente diverso Però il fatto che anche chi Agli occhi di tutti Dice vabbè dai Ma questo c'è una vita facile Ma questo è In realtà nasconde dietro Degli aspetti Anche veramente difficili Sì Difficili Insomma Diciamo che La mia storia viene raccontata Con trasparenza Anche in termini Insomma Di questa doppia anima Da una parte Una famiglia Molto seria Un padre Molto dedicato al lavoro Con un senso etico Del lavoro Della responsabilità Nei confronti di se stesso E degli altri Dell'indipendenza Dell'autosufficienza Orfano di padre Molto giovane Che deve fare capo Di partire Più che da zero E dall'altra parte Però Anche Un grande affetto Dal punto di vista Materno Invece Che in qualche maniera Ha fatto da collante Nella mia vita Ma con un denominatore comune Cioè Quello che Ero obbligato Fin da piccolo A sentirmi Assolutamente normale Dovevo conquistarmi Quello di cui Avevo bisogno E soprattutto Dovevo essere Indipendente Questa era una tua Scelta O anche la tua famiglia I tuoi genitori Ti avevano messo in condizione Allora Rileggendo questi temi Ti posso dire Che era una mia scelta Nel senso che ci sono Proprio le tracce Le radici Di questo pensiero Fin da piccolo Da una parte E dall'altra Però invece C'era anche Un concetto Proprio di famiglia Insomma Questo viene descritto Molto bene In cui Tu dovevi cavartela Da sola Insomma Questo era un po' Il mantra Ed è stata La mia salvezza E racconto anche Che però Ci sono stati dei momenti In cui Da una parte Hai una forza Che ti Ti rassicura Perché tu ti senti così E dall'altra Ti senti di avere Delle lacune Perché ti piacerebbe Essere un po' più protetto Ti piacerebbe Essere meno Insicuro È raccontato Nei dettagli E io ho voluto Proprio Ecco Tu mi chiedi il feedback Non sai quanti ragazzi Mi hanno scritto Dicendo Anch'io ho avuto Questo problema Con mio padre Anch'io a un certo punto Mi sono sentito Inadatto Anch'io a un certo punto Ho avuto paura Delle mie scelte E per cui poi Attraverso una storia Particolare Privilegiata Come è stata Quella mia Ho cercato Di raccontarla Per come è stata Vissuta In termini di emozioni Vedi Nella vita Ci dimentichiamo Che le cose importanti Molte delle cose importanti Le fate tutte persone Con meno di 30 anni E questo è perché In quell'età Hai una dose Di incoscienza Hai una dose Di non consapevolezza Che ti permette Di rischiare Di provare E in questo senso Io voglio che sia Un incoraggiamento Un incoraggiamento Che però Appunto Poi ho scoperto Serve anche Chi è più grandicello Perché mi scrivono Tante persone Che Sentono l'esigenza Di uscire Da una zona In cui sono Che non gli fa piacere E dove non fa piacere Eserci Ok In questo In quel percorso Prima dei 30 anni Qual è la cosa Più importante Che secondo te Hai fatto O per te O per quello Che hai vissuto Guarda Io ho fatto Delle cose Di Ho veramente avuto Questa grande fortuna Di avere Da una parte Un padre Che faceva di tutto Per farmi Crearmi delle difficoltà In quello che facevo Dove poi Ho capito Che era un sistema Per allenarmi Perché simultaneamente Mi dava Delle grandissime opportunità Per cui Insomma Da una parte Diceva No Mi spiace Non ti posso Appena succedeva Qualche cosa Che finiva nei guai Per un investimento Mi spiace Purtroppo la vita È così Non ci posso fare niente Io È andata così Anche con me Però poi alla fine Alle spalle Cercava sempre Di creare Delle occasioni In cui io potessi Sempre mettermi in gioco Per cui La cosa più eclatante Insomma La presidenza Di un team di Formula 1 Quando avevo 23 anni Che tra l'altro Facevo già un altro mestiere Perché lavoravo In una grande banca d'affari Chiaramente Doveva essere una cosa Senza compenso Una cosa che mi arrangiavo A fare Quasi fosse Un dovere Nei confronti Della famiglia Controllare i numeri Ed è stata Per cui Insomma Delle esperienze straordinarie Quando succede Una cosa di questo genere Nella tua vita 23 anni Tu come la Come la accogli? Guarda La accogli Nel mio caso Appunto In questo senso Punto molto Al fatto culturale L'ho accolta Con la psicologia Che era già Dentro di me Alberava già Dentro di me Per cui A 23 anni Con i soldi Della banca d'affari Dopo i primi tre anni Di esperienza di lavoro Decido di Vengo ammesso ad Harvard E mi pago Il master di Harvard Quindi tu continui a studiare Mentre già stavi lavorando? Io finisco L'esperienza di lavoro E con i soldi Che guadagno Quindi tu Indipendentemente Ti sei pagato Tutti i tuoi studi Sì Ormai Ce l'ho fatta E da quel giorno là È diventato Quindi a 23 anni Io faccio la scelta Di dire Io non voglio niente Da nessuno Cioè per me Per essere poi Un buon padre Per essere un esempio Per gli altri Io non devo avere Niente da nessuno Quindi è diventata È diventata Una Diciamo Un dato di fatto Della mia vita Un vero senso Di libertà Perché io poi Alla fine Anche le scelte Di cui ti raccontavo Di lasciare Dopo quel brevissimo periodo L'azienda di famiglia Me la sono potuta permettere Perché io Ho sempre fatto Una vita Completamente indipendente Cioè non eri Diciamo legato Anche all'aspetto economico Per cui uno Si sente dipendente Assolutamente Io a 23 anni Diciamo Era stata una cosa Che cercavo Con grande forza E mi è andata bene Avevo però Anche il vantaggio Di avere Una cultura familiare Favorevole Perché tu mi chiedi Ma tu come Come ti sentivi allora E sai La verità è che Già quando Magari mi mandavano A lavorare l'estate Perché non avevo Fatto bene a scuola In Inghilterra In un negozio E magari c'era qualcuno Che lavorava con me E mi diceva Quello era il momento Del boom Venivano fuori I negozi Della Benetton In tutto il mondo Insomma era una cosa Mi ricordo Lady Diana Che entrava in un negozio E diventava uno scandalo Perché non era stata Riconosciuta E gli chiedevano Il documento Con la carta di identità Insomma È successo questo Sì sì assolutamente Non so se è mai stato raccontato Comunque Cioè Lady Diana Era entrata In uno dei negozi Era entrata in un negozio Benetton E la commessa Gli ha detto Mi fa vedere il documento Per cui era diventata Una sorta di Di gag E tutti però Mi chiedevano Ecco ti racconto questa storia Tutti mi chiedevano Dice ma Tu come mai Cioè come ti senti Di fronte a questa cosa qua Cioè vedere il tuo nome Li insegna E la verità è che io dicevo Siccome io poi ero in magazzino Aprivo le scatole Le pulivo Guarda per me Quello che Mi è stato insegnato Che devo controllare Se le maglie sono piegate bene E se le vetrine sono pulite Quindi io Effettivamente Non ho mai visto altro Cioè io non ho mai visto Quello che Gli altri potevano vedere E questo mi ha permesso Di vivere con serenità Secondo me Perché non ho avuto Mai grandi condizionamenti E forse anche questo libro Viene fuori Racconto anche Delle mie Delle mie storie Affettive Con le fidanzate E quant'altro E forse questo libro Può venire fuori Solo perché Non ho niente da nascondere Fondamentalmente Beh allora L'autenticità È quello che Che paga sempre Secondo me Ce ne stiamo accorgendo Sempre di più In questo periodo In cui di fuffa In giro ce n'è Ce n'è parecchie Quindi quando una storia Che sia sui social Che sia su un libro Raccontata in modo autentico Viene fuori E insomma Quel discorso Dell'avere magari Il nome dell'insegna E tu partire lo stesso Dal magazzino Perché stavi facendo Le cose lì dietro Quanti però Quando si approcciano a te Tu noti che non sanno Ovviamente questa cosa E che quindi magari Si approcciano a te Pensando che tu possa essere Vabbè guarda questo qua Alla fine Ha il suo cognome Fa delle cose Di conseguenza Cioè ti capita ogni tanto Ti è capitato Allora diciamo che Più o meno Fino all'inizio Del mio rapporto Con i social Insomma Non avevi neanche modo Di avere Lo davo per scontato Che fosse così Cioè lo davo per scontato Che io avevo questa salita Perenne Di trovarmi di fronte A qualcuno Che vedeva Una cosa Che aveva già Identificato Che aveva già capito Che aveva già dato Per scontato Che io fossi Un certo tipo di persona Che avessi avuto Un certo tipo di esperienza Che avessi avuto Dei privilegi E quindi I social mi hanno cambiato La vita Cioè questa nuova fase Perché ho potuto Dire la tua Dire la tua versione Che ripeto Non era un atto volontario In cui Poi alla fine Sono uno anche Abbastanza tranquillo Non diventavo fanatico Di dover far sapere agli altri Evidentemente Quello che facevo Quella che Cioè bastava per me E bastava per i miei figli Perché poi alla fine Quando diventi genitore Capisci che la cosa più importante Per i tuoi figli È avere un buon esempio di fronte No? E per cui per me Non dico che E la mia famiglia Quelli che mi conoscono I miei amici Insomma Che poi sono gli amici di sempre Come racconto nel libro Non sono cambiato Non hai cambiato No, no, no A me non piacciono Tu ti devi sempre ricordare Chi era amico tuo In tempi non sostenti E poi loro ti ricordano Cioè ti tengono Sono anche un costante Promemoria su chi sei Da dove vieni Assolutamente Sì La traiettoria Te la ricordano Esatto Basta che li guardi E per cui insomma Era una cosa Che non davo per scontato Questa nuova fase Che appunto Tu dici L'autenticità La trasparenza Mi ha dato l'opportunità Di raccontare Ora Chi mi crede O chi non mi crede Io penso che La cosa interessante Come io sempre Perché io ho così tanta fiducia Nei giovani Perché i giovani Non sono inquinati Da non aver fatto lui De loro stessi Insomma Sono molto più neutri Rispetto a un messaggio Che ricevono Non ci hanno dei condizioni Un pregiudizio Molti meno pregiudizi E questo mi incoraggia E penso che se potranno E sapranno Utilizzare questi nuovi media In modo opportuno Insomma Potranno anche dare soddisfazione A se stessi E anche agli altri Infatti quando eri Quando eri giovane tu Questa cosa che ha 23 anni Hai lavorato in Formula 1 Avevi un team Eccetera Cosa ti ricordi Di quel periodo Cioè ci sono stati Dei momenti In cui magari Non dico che non ti sei sentito All'altezza Però avevi paura E poi lo sei stato invece Sì sì No ma quasi sempre Ma sai Un po' di paura Fa bene nella vita L'importante è che Non diventi panico Un po' di paura Vuol dire che tieni Le orecchie alzate Che sei Hai il giusto livello La giusta dose di modestia Per sapere che sei lì Per imparare Allo stesso tempo Insomma Se sei per bene Hai lavorato Se hai capacità Se hai curiosità Se sei abbastanza Io racconto nel libro Di tutte queste persone famose Che ho incortato nella mia vita E non solo famose Che mi hanno insegnato tantissimo Ecco io penso Che questa sensibilità Questa curiosità Di guardare gli altri E imparare anche dagli errori E imparare anche dagli errori degli altri Certo E imparare soprattutto poi Io stesso dai miei stessi errori È stata una chiave di lettura Molto importante Che suggerisco ai giovani Quindi L'incoraggionamento è anche Non abbiate paura Delle sfide nuove Insomma Cioè tante volte Quando Ecco in questo senso I grandi sono poco generosi Quando raccontano Anche dei propri successi Perché lo fanno sembrare Quasi una cosa Che è stato normale No? Sì è stato un po' difficile Come la prima fidanzata Che ti lascia Dice vabbè E poi Invece Tu devi raccontare Che in quel momento Ti sei sentuto perso Ti hai avuto paura Perché Quello è il momento In cui capisci Che puoi crescere Che puoi mettere Nel tuo repertorio Che hai superato Una difficoltà E l'hai trasformata In una nuova versione Di te Che è meglio Di quella precedente È qualche cosa Che devi mettere in memoria Anche perché Poi se non lo racconti A parte aver falsato Il racconto stesso Però anche La persona fa fatica A medesimarsi Perché magari Quella persona In realtà Quella difficoltà La sta vivendo E quando capisci Che anche tu Magari l'hai vissuta Allora dici Ce la posso fare anche io Questo è sicuramente Tra i messaggi Più belli Che ho ricevuto Ce n'è stato uno Che in realtà Mi è arrivato Da quattro persone diverse Che è stato lo stesso messaggio Dice guarda Questa è stata una lettura In cui quando ho finito L'ultima parte Avrei voluto chiamare Chi ha scritto il libro Sì Beh questo è un'altra Grande figata Io me ne sono accorto Con il mio libro Cioè il fatto che Qualcuno legge un libro E poi scrive All'autore del libro E tu magari Gli hai anche risposto Come in questo caso Come avevo fatto io Ed è una roba Che se ci pensi Qualche anno fa Era impensabile Quindi avere anche Quel confronto È pazzesco E anzi complimenti Perché non è poi da tutti Andare anche a rivedere O a rispondere Poi a questo tipo di A questo tipo di commento Quindi insomma La storia che racconti lì È molto bella È molto di ispirazione Il rapporto tra genitori Figli è sempre molto difficile In tantissime famiglie A prescindere dal cognome Nel tuo mi colpisce molto Il fatto che Tu sia comunque grato Al comportamento Che ha avuto Tuo papà Nei tuoi confronti Ma c'è qualcosa In particolare Invece che Non hai capito Ma no Secondo me Alla fine L'esperienza della vita È capire anche gli altri Che hanno delle ragioni Se hanno fatto Se hanno fatto delle cose Mio padre È orfano A dieci anni Con dei fratelli più piccoli Praticamente Partendo da più che zero E quindi Ne ha fatto Un fatto Di esperienza propria Quello di Divertirsi Proprio forse Perché si è dovuto Arrangiare da solo E si è regalato Delle soddisfazioni Nella vita Che sono state frutte Proprio del Non aver nessun dubbio Di essere stato aiutato Da nessun altro Io penso che Tante volte I genitori Racconto anche questo Io ogni tanto Vedo I genitori Che si lamentano Con i professori Che dicono No ma tu questo Non lo puoi fare Ci sono delle storie Raccapricciante Di questo fatto qua Del genitore Che va a proteggere Il figlio Io invece vengo Dalla cultura In cui ci sono Dei valori Che vengono trasmessi Lo racconto anche questo Nel libro Da Da chi ti sta intorno C'è il concetto Di famiglia Che è sicuramente Genitori Sicuramente figli Sicuramente parenti Ma è anche Quel cerchio Che man mano Che si allarga Può essere di grande valore C'era l'oratorio Una volta C'era il C'era il quartiere La madre del vicino Che controllava E il figlio C'era il professore Che a un certo punto Vedeva qualcuno Di perso E lo aiutava Ecco Io penso Che a un certo punto Si è dato per scontato Che queste cose Non valevano Che un figlio Che non andasse bene Diventa per un genitore Una cosa Una responsabilità Che non vuole avere Perché è come dire Beh la colpa è un po' Anche tua E quindi devi trovare Un capo respiratorio E magari il capo respiratorio Finisce per essere Un professore Che invece Sta provando A darti una mano Ad educare Perché sta parecchie ore Con i tuoi figli E in questo senso Ho una storia fortunata Nel senso che I miei genitori E mio padre Sono sempre stati Molto seri Da questo punto di vista Come genitore Ecco In conclusione Su questo tema qua Dico anche Che tante volte Sarebbe la cosa più facile Provare a comprare L'affetto di tuo figlio Cioè magari hai poco tempo Io invece preferisco Investire tanto tempo Con i miei figli Magari farlo con severità Mettergli l'asticella alta Con magari più empatia E con più C'è anche un periodo storico Cioè tutto quanto Cioè quando l'ha fatto mio padre Era un'altra fase storica Del paese Suo aziendale E quant'altro Oggi Io sicuramente Ho un rapporto Molto più orizzontale Con i miei figli Che verticale Cioè l'autorevolezza Oggi per me Viene perché abbiamo Delle cose di cui parlare assieme Non perché Io sono Tuo padre E ti dico Quello che devi fare Però Rimane il fatto Che Riscontro Che Un genitore Soprattutto quando Sei in alcuni contesti Non deve fare l'errore Di comprare L'affetto del figlio Attraverso cose materiali O attraverso facilitazioni In questo senso Mio padre è stato Molto generoso Perché sarebbe stata La cosa più facile Per lui da fare Ma ti diceva bravo Quando facevi le cose giuste No Non ha mai No 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 Me l'ha detto di recente Davvero? Sì 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 Questo è uno scoop Se vuoi averlo Me l'ha detto di recente Nel senso che Mi ha detto su una cosa Che riguarda il mondo professionale Diceva io Questa cosa Non sarei riuscito a farla Ma dai Beh credo che per te Sia stato Tutti quanti mi stanno guardando Attenzione Attenzione Che fa impressione anche dire Uno scoop Che mio padre mi abbia detto bravo Cioè di per sé Come contesto Però Alla fine Devo anche dire Che Guardiamolo da un altro punto di vista Il bravo ci sta Però deve sempre essere accompagnato Perché è un'esigenza Che abbiamo Tutti quanti Noi Il fatto che Non dobbiamo fermarci Al bravo Cioè Perché alla fine La vera sfida Nella vita Secondo me Per ciascuno di noi È cercare continuamente Non voglio usare la parola banale Di migliorarsi Insomma Di scoprire che Le cose possono essere anche meglio E possono essere meglio Rispetto alla nostra salute fisica Rispetto ai nostri Rapporti sentimentali Rispetto ai nostri rapporti familiari Rispetto al nostro Rapporto professionale Nel mondo dove lavoriamo Insomma Rispetto al nostro rapporto Con l'ambiente No E questo tipo di atteggiamento Appunto Bisogna sempre stare attenti Che il bravo Non sia un punto di arrivo Ma sia un punto di partenza O di incoraggiamento Appunto Come dicevi Come dicevi prima Tra i personaggi Che citavi prima Che ti hanno insegnato qualcosa C'è qualcuno Di particolarmente Che è più clamoroso Tra quelli Magari che hai incontrato O di situazioni In cui ti sei ritrovato Guarda Allora Parlo molto di questo Michael Porter Stiamo parlando Inizio anni 90 Fine anni 80 Del concetto Che esistono Delle similitudini Ecco a proposito Di basement Esistono delle similitudini Tra settori diversi Era una cosa Che oggi Ci sembra più naturale In quegli anni Non lo era Se venivi dal settore Della chimica Eri del settore Della chimica Se venivi dal settore Dell'entertainment Eri del settore Eri del settore Ecco lui per la prima volta Sviluppa Un punto di vista In cui dice Attenzione Tante cose invece Sono riconducibili Ad altro E questo altro Io invece L'ho voluto fare mio Pensando che questo altro Era il comportamento umano Cioè come si comporta Una persona Un imprenditore Una data fase Della sua evoluzione Personale Emotiva Professionale In qualche maniera Condiziona La vita dell'azienda Quindi puoi trovare Tra le tante cose Delle correlazioni Delle correlazioni Tra cose diverse E questo poi Ho finito appunto Per applicarlo In tutti gli aspetti Della mia vita Sì 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 E lui Lui mi ha influenzato In questo senso qua Cioè mi ha Ha portato Il mio modo di vedere A diventare Molto più olistico Anche perché il rischio Era gli Stati Uniti La scienza No La parte Meccanica Dei ragionamenti E più di recente La persona Che Io dico sempre È un È veramente Stato un faro Dal punto di vista Psicologico Henry Kissinger E lui perché Oltre insomma Ad essere un grande Anticipatore Dei momenti storici Più topici Io ogni volta Che lo incontravo Da un po' Che non lo vedo Lui riusciva Sempre a darmi Un'analisi Su qualsiasi tema Macroeconomico Macropolitico Geopolitico Di qualsiasi natura Che era Completamente Distaccato Dalla sua età Cioè lui Non mi ha Ciascuno di noi Io poi ho riflettuto Su questo fatto In qualche maniera È condizionato Perché dice Vabbè Allora io Più o meno Guardo le cose In funzione di Quanti anni ancora Ho di vita E a me Di quello che succederà Tra 200 anni Non mi interessa poco Di quello che Ecco Lui mi ha sempre provocato Questa riflessione Cioè Che alla fine Quello che lui Mette in gioco Nel suo pensiero Nella sua analisi Nello suo studio Non è un fatto personale Ma è un fatto Per la collettività Che è difficile Da scindere Soprattutto in quei In quei momenti Però nel business Credo che sia Particolarmente importante Anche come pensiero È fondamentale Nel business Perché Alla fine Sì Almeno io Ho questa visione Ciascuno di noi Deve considerarsi In qualche maniera Così Custode Di quello che riceve Che sia l'ambiente Che sia un'azienda Che sia un rapporto Insomma È custode Di qualche cosa Di una bellezza O di un valore O di un oggetto Finché non passa Qualcun altro Certo Prima il concetto Insomma Dei Come dire Dei diversi mondi lavorativi Che però sono collegati È molto affascinante Una delle cose Su cui io Che ho detto anche più volte A questo tavolo E non solo È che Una cosa che non ho mai sopportato Ad esempio anche nel mio percorso È il fatto che L'Italia tende a doverti mettere Per forza sempre un'etichetta Quindi se fai la radio Fai la radio Se fai video Allora sono youtube E se fai presentatore Allora sono presentatore Il fatto di farle tutte insieme Non è mai considerato Un valore Ma anzi È considerato Un ostacolo Perché ti devono Sempre incanalare Tu senti di aver avuto Un'etichetta addosso Sicuramente Appunto Come dicevamo Quella prima del mondo Dei social E anche quando ho incominciato Insomma tutti quelli Che si occupavano Della mia comunicazione O piuttosto Sì tutti quelli Insomma non c'è nessuno In realtà Mi sono sempre occupato da solo In tutte le cose Però voglio dire Tutti quelli che erano In qualche maniera Le agenzie Attorno a me Mi hanno scoraggiato Quando ho incominciato Questo mondo dei video Perché reputavano Che non fosse una cosa seria Da grandi Professionale Sì 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 E che insomma Avrei potuto Se non essere villipeso Insomma prendere E essere preso Come un influencer No Cioè come Leggero E questo io Me ne sono fregato Come altre volte Nella mia vita E anche qui Avevo una grande tradizione In famiglia Nel senso che Le campagne pubblicitarie Della Benettona Che oggi chiaramente Sono passate alla storia Io ne feci una stessa Durante il brevissimo periodo In azienda Sono passate alla storia Come delle campagne sociali Soprattutto di una certa generazione Insomma hanno fatto la storia In termini di integrazione Molto prima di altri Sì sì Ecco Io so per certo Che in quel momento I detrattori non mancavano Cioè c'erano anche delle forze contrarie A tutto questo E io in questo senso Ho un buon esempio a casa Perché mio padre Ha sempre avuto il coraggio Di guardare avanti E non conformarsi Dopo aver avuto i primi successi aziendali A dei pensieri classici È arrivato a fare una campagna Mettendosi nudo Per la raccolta di abiti nel mondo E quindi in questo senso Non so se è DNA O esempi Io ho cercato di attingere Anche da queste fasi In cui la storia dell'azienda E la credibilità È avvenuta anche dei momenti In cui ci sono stati tantissimi detrattori E per cui quando io ho avuto Delle idee nuove sulla comunicazione Praticamente ho pensato Che era importante ascoltare i giovani E la mia sensazione Invece appunto Era che se da una parte L'establishment Aveva molto da ridire Su quello che stavo facendo E obiettare I giovani invece mi hanno detto Vai È quello Anche perché se puoi parlare a loro Devi parlare quel linguaggio lì Se continui a parlare un linguaggio vecchio Io non riuscirei mai a raggiungerli Quindi insomma Anche tuo papà aveva degli haters Quando ancora non si diceva haters E quando non c'erano i social No no assolutamente 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 No 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 Ma da questo punto di vista Non cambiano le cose È incredibile Assolutamente È sempre stato così solo Che a volte adesso hanno dei nomi Un po' diversi Erano molto di più Mandavano delle lettere Però poi alla fine Un'altra cosa interessante Che faceva parte della sua analisi Che lui appunto Ecco quando racconto Che io ho imparato da tutti Chiaramente ho imparato tanto anche da lui Ma con gli occhi e le orecchie Si può imparare Quando dico ai ragazzi Guardate State allerta Perché si impara tantissimo Per cui io vedevo Come reagiva a lui Quando arrivavano Tutte queste lettere di Lamentela Che erano tante Certo Erano tante le lettere di Lamentela E alla fine Lui diceva Vabbè ma insomma Scrivono molto di più Quelli che hanno più tempo Perché se uno mi manda una lettera Vuol dire che non ha niente da fare E chissà quanti pensano bene Che non hanno tempo Perché stanno facendo delle cose più interessanti E non me lo dicono Quello è un pensiero Credo giustissimo Io penso che è ancora contemporaneo Sì Attualissimo Guarda Attualissimo Anche se è più veloce Forse adesso scrivere Anzi è peggio Il fatto che sia più veloce Scrivere Rispetto a scrivere una lettera Che è Alessandro Benetton Oggi Nel senso Tu ti occupi ancora di tante cose Hai parlato tanto di giovani E soprattutto Ti occupi di investimenti Che è una parola Un termine Che anche in Italia È visto in modo In modo stato Io personalmente Nel mio È un concetto Che spendo molto Sia da un punto di vista Energetico Di tempo Di risorse Ma anche poi Magari economico In tanti In tanti casi Però ogni tanto Mi rendo conto magari Di essere Di vivere nel paese Che meno rappresenta Questo tipo di concetto Che però mi sembra basilare Tu come ti poni In tutto In tutto questo? Guarda Mi pongo Sempre con la stessa persona Che ha avuto Il grande privilegio Nella vita Di Di poter fare Tante cose E E Poter continuare A farle Incluso quello Di diventare Uno scrittore Lo dico chiaramente Con ironia Perché non è Una roba seria E È la parte Che voglio Che continui Ancora così Mi auguro Il più a lungo Possibile E La suddivido Per fasi Ma è sempre stata La stessa persona Lo stesso ragazzo Che scrive Quei temi Che 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 ho scoperto Che ho scoperto Appunto Quando ho compiuto 50 anni Di cosa Mi occupo Tornato da Harvard Ho deciso Di fare Una società Per i fatti miei L'ho deciso Perché non c'era Già stato Lo stesso punto di vista Con alcuni Della mia famiglia Ok O anche con dei manager E In quel contesto Là Ho pensato Che Volevo capire Come funzionava Un'azienda Per cui Ho pensato L'Italia 90% Del PIL È la piccola Media impresa Non esistevano Finanziamenti Dico Io quasi quasi Mi metto In questo settore E vado a cercare Nelle piccole aziende Quelle famose Correlazioni Tra un settore E l'altro Che penso di aver capito Essere un elemento Mi sono messo a fare quello Nel frattempo È scoppiato Un settore Che non esisteva Il cosiddetto Private equity I fondi di investimento Cosa vuol dire I fondi di investimento E private equity Tu sei un operatore Fai la tua società Di gestione Vai a raccogliere Dagli investitori istituzionali Le banche Le assicurazioni Dei soldi Internazionali Soprattutto Compri delle aziende Le fai andare meglio E dopo dieci anni Le rivendi Quando le rivendi Una parte Ristituisce il capitale Il rendimento A chi ti ha prestato i soldi E una parte Degli utili Te li ti ritieni E quindi Il mio rapporto Con la piccola impresa Con il fare È sempre stato molto intenso Ormai da trent'anni Quindi la mia vita Si è giostrata Attraverso questo È raccontato Nei dettagli Insomma Tutto quello che ho imparato Da queste situazioni Diverse tra di loro Perché abbiamo investito In quasi cento settori diversi Alla mia squadra Cento settori diversi Cento settori diversi Sì 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 Siamo sbarcati E beh insomma Nel mondo dei media Per esempio Abbiamo fatto questa catena Di cinema Che si chiama The Space Ok Quella è stata un'aggregazione Che abbiamo fatto a noi Sì sì L'abbiamo fatta a noi Siamo entrati così Da profani In un settore Che sembrava Che non potesse funzionare E l'abbiamo fatto funzionare E abbiamo cambiato Dei paradigmi E tra l'altro Buttandoti su settori diversi Ti butti anche su settori Che inevitabilmente Magari non conosci Ma cosa trovi In quel settore Che dici Ok Però proviamoci Cioè anche se io Non conosco bene Questo mondo Però sento Vedo che c'è questa cosa Vuol dire che può funzionare Guarda Usiamo questo esempio Di cui abbiamo parlato The Space Un settore Che sembrava dato per morto Perché arrivavano Tutte le altre forme Di distribuzione Dei cinema Dei film Per cui Avevo detto Nessuno andrà più Ormai non conviene Ognuno si guarderà il film Dal tablet Quando vuole Allora che vuole Per cui insomma I cinema chiuderanno Io invece Avevo guardato Un'osservazione più sociale Mi ero accorto Che in alcuni mercati In particolare Negli Stati Uniti Il cinema continuava Ad avere questo effetto Sociale Cioè Un luogo di incontro In cui andare a fare Una cosa assieme Un punto di aggregazione Un punto di aggregazione E i giovani lo facevano Per cui ho detto Secondo me non è così L'altra cosa Che avevo notato O avevo immaginato Ecco a proposito Delle cose che puoi prevedere Non puoi prevedere Mi ero accorto Che nel settore italiano C'era molta frammentazione Questo permetteva Siccome chi è un esercente Cioè chi ha una sala cinematografica Ha come costo principale Quella di pagare Il film I diritti del film E l'Italia pagava Un prezzo Mediamente superiore Rispetto ad altri mercati consolidati Quindi ho ragionato Che se si poteva consolidare Il settore Si cambiavano Le regole del gioco Quindi Lunga storia corta Quello che non avevo previsto Invece Che ci ha dato una grandissima mano Era stato il cambio di tecnologia Cioè L'avvento del satellitare Ti permetteva di riempire le sale Anche negli orari Che di solito erano vuoti Per cui Che fosse un documentario Per le scuole Che fosse Il teatro da New York In diretta Il sabato mattina Qualsiasi cosa O la partita in trasferta Della squadra della città Questo permetteva Un'entrata Quindi Siamo entrati nel settore Abbiamo comprato Più di tre catene Le abbiamo messe assieme Abbiamo comprato Medusa Abbiamo comprato Warner Village Poi abbiamo Un'altra City Una catena Più locale E Quando abbiamo Raggiunto una massa critica Abbiamo investito Sul food and beverage Cioè ci abbiamo fatto Che questi centri di aggregazione Avessero altri prodotti Da vendere Gli accessori Ci siamo fatti Le spalle larghe In termini di avere Delle alternative E poi siamo andati Dalle major Abbiamo detto Adesso l'Italia paga Come la Francia E come la Germania E ha funzionato Che anni Di che anni Stiamo parlando In questo caso Oddio Secondo me Siamo usciti poi Da questo settore Nel 2017 Più o meno 2018 Adesso non mi ricordo Eravamo entrati 4-5 anni prima Beh diciamo anche in tempo Rispetto alla pandemia Che sicuramente Non ha aiutato Purtroppo questo settore Anzi l'abbiamo L'abbiamo visto Che cos'hai lì Ecco qua Mi sono fatto dare una cosa Allora Ascolta questo A proposito Dell'eterno dilemma Se noi nasciamo In una certa maniera O diventiamo In un'altra maniera O diventiamo In quella maniera Allora Un mio tema Dobbiamo dirlo L'Italia sta passando Un periodo Veramente critico La colpa è di tutti noi Che continuiamo a spendere Senza tregua Intanto i nostri ministri Sono costretti Ad andare in deficit Con quasi tutti I paesi europei Il deficit È il debito Che uno stato Ha nei confronti Degli stati Da cui importa Delle merce Verrà il momento In cui l'Italia Dovrà restituire Il denaro Avuto in prestito Allora sì Che i nostri ministri Dovranno grattarsi la testa Per trovare quei soldi Scusate Questo era un tema Di che anno? Avevo dieci anni Avevi dieci anni? Se prendo il mio C'è scritto Allora Oggi la mamma Mi ha portato A fare la spesa Il problema è che dopo Ho avuto una curva in giù Nella mia vita E poi mi sono ripreso Però insomma C'era qualche cosa Diciamo che il tema Era abbastanza A parte il tema Ma proprio L'argomento Era abbastanza presente In te Fin Quello che era interessante Quello che era interessante Era un tema italiano Già da allora Che potrebbe essere Ancora Attualissimo Poteva essere Tranquillamente Riletto Oggi Qual è la difficoltà Più grande Che c'è oggi Per chi vuole Cercare appunto Di fare impresa O di fare del business Attraverso delle idee Beh c'è un mondo Molto competitivo Ci sono delle opportunità Nuove Evidentemente Le nuove tecnologie La disintermediazione Il fatto di poter far conoscere Le proprie idee Secondo me è anche Un'inclinazione Meno in Italia Che mi auguro Che questa cosa cambi E farò del mio meglio Perché sia così Fiducia nei giovani Cioè alla fine Chi l'avrebbe mai detto Ecco per chi viene Della mia generazione Chi l'avrebbe mai detto Che le società Le cinque società Più importanti al mondo Erano società Tra virgolette Senza fabbriche Questo era un pensiero Inimmaginabile Fino agli anni 90 Cioè sembrava Che fosse tutta Fuffa È successo invece Che i mercati più evoluti Come quelli degli Stati Uniti Abbiano dato gli spazi Ai giovani Quindi E quindi è nato Tutto questo nuovo mondo Quanto facile è Chiaramente è anche Aumentata la competizione Quindi oggi Per un giovane È molto complicato Da questo punto di vista Però io penso che In generale Il mio suggerimento È più che concentrarsi Su quanto difficile Che è difficilissimo Competitivo Che è competitivissimo È concentrarsi Proprio su continuare A vivere Tutte le occasioni Di esperienza Che un giovane ha Nella propria vita Personale Sentimentale Nella propria vita Di rapporti Di conoscenze Di viaggi Perché alla fine Bisogna ricordarsi Quindi mi chiedevi Che cosa faccio oggi Questo è un fatto importante Fammi rubare Ancora qualche minuto Oggi sono presidente Di edizione holding Che è una holding Che raggruppa Tutte le attività Della mia famiglia Ecco a proposito Di traiettoria Che è il titolo del libro Sono una traiettoria Inaspettata Perché è successo Relativamente Di recente Nell'ultimo anno E diciamo che anche là Una delle parole chiave Del mio libro È la discontinuità C'è stata questa grande Discontinuità Io e i miei cugini Perché insomma In realtà sono Non sono assolutamente Da solo Perché insomma C'ho dei cugini Con i quali stiamo lavorando Vogliamo disegnare Una nuova traiettoria Di questa edizione holding Che è la holding Di tutti gli affari Di famiglia Lo facciamo in maniera unita Lo facciamo con la convinzione Di poter attingere Ecco alcune cose Le raccontate nel libro Dai valori Dei padri fondatori La serietà L'importanza Dei rapporti Con il territorio L'importanza Di una visione sociale Il senso etico Del lavoro Però in chiave moderna Con delle piattaforme Dei rapporti internazionali E vogliamo disegnare Appunto Una nuova traiettoria Quindi insomma Si apre anche qui Un capitolo Inaspettato Interessante Della mia vita In cui però Non farò mai Venire meno Questo rapporto E questa convinzione Che i giovani Sono quelli che fanno La differenza Alla fine Sono molto rapito Da questa cosa Proprio perché invece È la difficoltà Più grande Che riscontano Negli ultimi anni Cioè quella di trovare Persone più grandi Di me Che abbiano voglia Non dico di essere Per forza dei maestri Però in qualche modo Di tralasciare O lasciare qualcosa Agli altri Perché mi sembrano sempre Tutti molto concentrati Sul proprio Sul proprio Orticello Tu sei sempre stato così Cioè quando eri un ragazzino Hai detto Quando io sarò grande Farò così O è stato un percorso Che ti ha portato Ad essere così No è stato È stato un percorso Però Il concetto di condivisione Di sfruttare L'energia Del gruppo Penso che sia stato Sempre qualche cosa In qualche maniera Un po' innato Per me Cioè io non ho mai creduto Che Cioè io Io penso che i singoli Fanno la differenza In termini di Capacità aggregativa Più che Sì Poi c'è sempre Quello che è Geniale E che fa la differenza Insomma Quelli là Insomma Sono sui libri di storia Oppure speriamo Di vederne ancora Qualcuno nel futuro Insomma Penso che non sia Quasi mai Non sia Nessuno Nessuno di noi Statisticamente Però Puoi fare la differenza Perché Hai l'energia Per metterti Nella condizione Di guardare alla vita In questa maniera Che è una maniera In cui Cerchi sempre Di guardare agli altri E valorizzarli Per tutto quello Che sanno fare bene Non per Massacrarli Per quello Che non sanno fare Grazie davvero Per questa Chiacchierata Tutto il resto Io sarei qua ore A sentirti sinceramente Alessandro Ma lo trovate poi Nel libro La traiettoria Sennò facciamo troppo spoiler E poi uno Però in realtà Abbiamo parlato anche Di tante altre cose E insomma Non vedo l'ora Di vedere Quello che creerete Ancora in seguito Perché la traiettoria Ancora è in traiettoria Cioè Non ha colpito ancora Il bersaglio Assolutamente Ma come la disegni Sta traiettoria Secondo te Com'è stata? Ah guarda Io se devo disegnare La mia Praticamente Non ho ancora capito Perché poi Come si dice Tante volte Il futuro Ti prende alle spalle È vero Alessandro Benetton Grazie davvero Grazie a te A presto Grazie Grazie